Ciao ragazzi, ciao ragazzi, qualunissimo video in questo nuovissimo vlog Mi avete detto ragazzi veramente in tantissimi, oggi ovviamente non avevo niente da mettervi nella programmazione Quindi volevo parlare un pochino con voi Mi avete detto in tantissimi, insomma mi avete chiesto che cosa era successo, che cosa fosse successo con il mio computer Infatti oggi parliamo proprio di quello Diremi nei commenti se vi potrebbe piacere questo genere di video in cui insomma parliamo delle problematiche mie Della postazione, insomma, di quello che ho fatto questa settimana Allora ragazzi, non è un vlog, ma è diciamo insomma una parlata tra me e voi, insomma, una roba del genere Allora, che cosa è successo al mio computer? In poche parole il mio computer è un po' vecchio, insomma Oddio, un buon computer da gaming si gioca bene e regge bene i giochi Il problema è che da quando l'ho comprato non gli ho fatto nessun cambio Intendo, per cosa intendo dire cambio? Intendo che non ho mai fatto un cambio di RAM, non ho mai fatto un cambio di hard disk Non ho mai fatto, in questo caso di hard disk, non ho mai fatto un cambio di case Non ho mai fatto un cambio di liquido, non ho mai fatto un cambio di nulla Ho fatto soltanto il cambio di scheda video e ho preso la 7.50 Ma per un fatto mio perché la volevo prendere Però poi il resto è rimasto tutto uguale Cioè non ho cambiato niente, non ho migliorato e né né peggiorato niente Ma a quanto pare qualcosa è peggiorato Qualche giorno fa stavo giocando per la precisione a Minecraft E ad un certo punto mi si frizza tutto Mi si frizza tutto il sistema, il cursore non mi cammina più Però il computer all'interno, insomma, va avanti, insomma cammina Però comunque ho problemi con l'hard disk In poche parole che cosa succede? Succede che per esempio se apro OBS, Bluestack e il software della webcam Per registrare ovviamente la webcam, Clash Royale E ovviamente per giocare a Clash Royale e poi Clash Royale E per giocare a Clash Royale e poi la OBS per registrarlo Mi registra, però poi ad un certo punto, pam, si frizza tutto Ho letto su internet e mi hanno detto che è un sovraccarico della CPU È un Intel Core i7 Non credo ci sia un alto utilizzo della CPU Non credo perché di solito OBS ti dà la scritta in rosso giù E ti dice alto utilizzo della CPU Questo me lo facevo con la vecchia scheda video Invece non me l'ha fatto più ultimamente Infatti sto registrando anche Minecraft con OBS Infatti non so se ultimamente avete visto gli episodi di Minecraft In generale a 60 FPS Mai fatto E in poche parole che cosa è successo? È successo che mi si frizza Vado a guardare su un po' di forum e vedo che c'è insomma l'alto utilizzo della CPU Vado a fare un po' di ricerche e mi arrendo e lo porto a controllo Lo smonto, lo apro, insomma Prima gli do una guardatina io perché insomma di pure anche di piccole cose Però comunque all'occhio non si vedeva che era l'hard disk Perché comunque l'hard disk era danneggiato all'interno C'era la testina all'interno che era danneggiata E quindi in poche parole che cosa ho fatto? L'ho portato lì e mi hanno detto che stava partendo l'hard disk Io ho fatto un po' diciamo un backup insomma dell'hard disk Quindi ho pensato insomma Aspetta Mi ha detto che l'hard disk Perché mi ha detto che l'hard disk qualcosa dovrebbe esserci Ci ho pensato e ho pensato Ho preso un po' la carta che praticamente mi ha notato quando ho preso il computer Ci sono scritti tutti i componenti Ho scritto Intel Core 7 La GTX 8040 Ma io adesso non Scusate la GTX 650 E dico la 8040 Perché nel vecchio pc avevo la 8400 La GT8400 Ma la vita GeForce 8400 Vecchissima E però ovviamente adesso la 750 Prima avevo la 650 avevo questo computer È abbastanza vecchio 8 era E quindi ragazzi Insomma vado avanti Insomma guardo questo componente e vedo che c'è un hard disk SATA Da 1 tera Affiancato da un SSD 500 giga L'hard disk SSD da 500 giga non mi ha mai dato problemi L'hard disk da 500 giga non mi ha mai dato problemi Infatti io sono sempre andato veloce Infatti parlando di sistema Sono sempre andato abbastanza veloce E il sistema in seno E il sistema in seno mi ha mai dato problemi E quindi l'SSD era tutto a posto Vado a scaricare un programmino che si chiama Crystal Disk Il programma dell'hard disk Che ti dice praticamente in che stato si trova l'hard disk E poteva uscire sia scarso insomma Sia basso Sia che fa schifo insomma Sia che è così così Sia che è ottimo A me è uscito che è così così Quindi buono E ovviamente dico Vabbè cazzo Dice che è buono Però comunque il computer mi si frizza Devo provvedere a questa cosa assolutamente Insomma ne parlo con mio padre Dico guarda senti Il fatto così Questo mi si frizza sempre Come cavolo lo devo fare Prendiamo la decisione E compro l'hard disk Ho preso l'hard disk da 1 tera Il Western Blue Digital Non voglio fare pubblicità Ma non metto neanche il logo Il WD Una roba del genere Da 1 tera Insomma come quello là che avevo prima Insomma perché prima avevo un hard disk da 1 tera E adesso ne riprendo un altro da 1 tera Tranquillamente Vado a guardare un po' Suspisi che ho un programmino così E vedo un po' Che vedo E mi esce che è scritto Che le RAM sono danneggiate Non è che me lo deve dire per forza lui Ma è la verità Ho da qualche periodo Che ho le RAM danneggiate Dovevo già cambiarle Infatti comprai una Wengerance Una Corsair Su Amazon Solo che mi arrivò Era completamente danneggiata Quindi la mandai indietro E mi restituirono i soldi Insomma tranquillamente E il rimborso insomma Per capirci meglio Quindi la situazione è questa Se gioco a Minecraft Registro con Fraps Oppure a volte con OBS E mi si frizza il computer Registro insomma con po' E mi si frizza Quindi non può avere un altro Tese della CPU Ma non è la CPU Che in alto utilizzo Mentre è l'hard disk È un po' il gioco di parole Postro Insomma un po' così così Quindi la mia situazione attuale È questa La situazione di postazione Ragazzi è sempre questa qui Insomma la postazione è sempre questa Ma l'avete visto tipo un video fa Un video o due video fa Quindi ragazzi la postazione È sempre questa qui Il computer è sempre aperto E fuori uso Ma appena compro l'hard disk Ovviamente si ricomincia a far tutto In attesa ovviamente di Minecraft Ho già provveduto Non vi preoccupare Nei prossimi giorni Arriveranno video di altri giochi Giochi insomma come Giochi Perfetto Quindi arriveranno video di giochi Ragazzi per questo video è tutto Devo ancora anticiparmi altri tre video Perché domani non ci sarò a casa Quindi devo registrare Mettere dei video per i prossimi giorni Ci vediamo con un prossimo video Seguimi su tutti i social Iscrivetevi al canale Se non l'avete già fatto Per non perdere i prossimi video Ci vediamo con un prossimo video Ciao belli